Leggi d'Italia presenta il nuovo studio legale, il sistema di documentazione, informazione, servizi che semplifica l'attività nello studio grazie al più potente e innovativo motore di ricerca che ti legge nel pensiero, suggerendoti le parole da cercare, ti suggerisce i termini giuridici più adatti, ti propone sempre per primo il documento che desideri trovare, ti dà la possibilità di filtrare i risultati per visualizzare solo quelli che ti interessano, ricercandoli contemporaneamente in tutti i contenuti del sistema, anche quelli a cui non sei abbonato. Ma oltre la ricerca intelligente c'è di più. Grazie al quotidiano di Leggi d'Italia, studio legale, l'aggiornamento professionale è sempre a portata di mano. Un primo inquadramento giurisprudenziale e dottrinale dei provvedimenti più recenti, le notizie giuridiche di attualità di maggior rilevanza, le analisi ragionate su argomenti di particolare interesse, La sezione in evidenza ti consente l'accesso rapido alla dottrina, i quattro codici commentati per testuali UTET giuridica e dottrina d'Italia, con gli approfondimenti e l'interpretazione pubblicati sulle riviste IPSOA, UTET giuridica, CEDAM e il Fisco. E non è tutto. Leggi d'Italia, studio legale, ti offre tutti gli strumenti per gestire le attività del tuo studio, gestire il processo telematico in modo semplice e immediato, gestire ogni fase della procedura, e ancora, tanti servizi personalizzabili per ottenere le risposte a tutte le tue esigenze professionali. La mia biblioteca, la prima biblioteca professionale in the cloud, con migliaia di libri CEDAM, UTET giuridica e IPSOA in formato digitale. Il servizio Scrivi alla redazione. I dubbi su come utilizzare il sistema dureranno il tempo di scrivere un'email. Il catalogo dei corsi e-learning accreditati dal Consiglio Nazionale Forense. I dossier, con una raccolta di studi su temi di particolare interesse. Il servizio Visure, per accedere alle banche dati camerali e alle informazioni delle conservatorie. Iscrivendoti alla newsletter Studio Legale, riceverai al tuo indirizzo email gli aggiornamenti solo sulle materie che ti interessano. In più, con Leggi d'Italia Studio Legale, continui ad avere tutti i classici strumenti di lavoro a cui sei abituato. Le banche dati di giurisprudenza, normativa e prassi, la dottrina più autorevole, un ricco catalogo di contenuti specialistici, tutto costantemente aggiornato online. Un vero e proprio mondo di soluzioni raccolte per te in un unico sistema. Richiedi ora la tua prova gratuita. Grazie a tutti.